3, 2, 1, vai, destra 3 meno meno, chiude, con sinistra 3 più più, inapre, sinistra 4 più più, attenzione spigolo interno, 50, destra 2 secca, 30, accenno sinistro, per attenzione attenzione, sinistra 3 meno meno, gira lunga, 30, destra 2, gira, 50, destra 5 più più, lunga, ritarda, per attenzione attenzione, inversione sinistra, 50, e attenzione attenzione, allo stop, inversione destra, 30, accenno destro, 70, destra 4 meno meno, attenzione allo spigolo interno, in tieni filo, destra 4 più più, anticipa, vai, vai, per sinistra 5 più più, anticipa lunga, per tieni filo a cancello, anticipa sinistra 5 meno meno, 70, bravo, destra 5 più più, ritarda, 300, e scicanna entrata a destra, poi 50, vai, vai, destra 3 più più, in imposta sinistra 3 più più, anticipa e tieni, anticipa e tieni, ecco, destra 5 più più, 50, sinistra 4 meno meno, ritarda, tieni, in imposta destra 4 più, 50, sinistra 3 più più, anticipa, all'arrendimento a destra, in tieni filo, sinistra veloce, anticipa, 50, accenno sinistra, anticipa, 70, e destra 3 più più, secca, 70, vai, vai, scicanna entrata a sinistra, 50, e in imposta destra 4 più più, 30, destra 4 meno meno, ritarda e tieni, con accenno sinistra, anticipa, vai subito veloce, per accenno destro, e per sinistra veloce, anticipa, e per attenzione, attenzione, sinistra 4 meno meno, lunga, ritarda e a cartello anticipa, 70, vai, destra, per sinistra 3 più più, apri veloce, apri veloce, 50, destra 5 più più, anticipa, per destra 5 più più, in attenzione sacrifica, sinistra 4 più più, per tieni filo, sinistra 4 più più, anticipa, 70, vai, pieno, destra 3 più più, ripeto, destra 3 più più, in sinistra 4 più più, anticipa, secca, 30, vai, secca, subito sinistra veloce, anticipa, 30, bravo, e destra 4 meno meno, lunga, in sinistra 3 più più, tieni, 50, vai, destra veloce, lunga e in posta, e cartello anticipa, 50, accedo sinistra, attenzione, attenzione, sacrifica, destra 3 più più, gira, tieni all'inizio e poi apri, 50, vai, apri, sinistra 5 meno meno, anticipa, lunga, piena, 70, sinistra 5 più più, anticipa, attenzione, attenzione, sacrifica, destra 4 meno meno, tieni, e in posta sinistra 3 più più, lunga, lunga, vai che lunga lunga, vai, apri, destra veloce, lunga, 50, e al giallo sinistra 5 più più, contieni filo, per sinistra 5 più più, anticipa, e per accenno destro, 30, destra veloce, anticipa, per attenzione, sacrifica, destra 3 più più, gira, livello destra 3 più più, gira, 50, sinistra 4 meno meno, ritarda, 30, sotto di 3 secondi, sinistra 3 più più, ritarda, 30, accenno sinistro, ritarda, sinistra 5 meno meno, anticipa, per destra veloce, al cartello, 100, e chicane entrata a sinistra, ripeto, chicane entrata a sinistra, e in posta, destra 3 più più, chiude, 30, sinistra veloce, lunga lunga, con attenzione, sacrifica, destra 3 più più, chiude, ripeto, sacrifica, destra 3 più più, chiude, in sinistra 5 più più, anticipa il muretto, 50, sinistra 4 meno meno, anticipa e tieni, 30, e sacrifica, sinistra 5 più più, ripeto, sacrifica, sinistra 5 più più, con destra 4 più più, anticipa, in sinistra 4 meno meno, anticipa, e in sacrifica, destra 3 meno meno, gira, tieni e chiude, con accenno sinistro, anticipa, tieni filo, per ricorda, sinistra 4 meno meno, anticipa, con destra 5 più più, anticipa, Ponte per sinistra veloce anticipa e per azione destro e per acceno sinistro in attenzione attenzione sacrifica destra 5 meno meno anticipa e per sinistra veloce lunga e per attenzione attenzione sacrifica diventa 3 più più gira 50 vai fa la scorre destra 3 più più gira chiude in acceno sinistro 70 sinistra veloce anticipa 50 sinistra 4 meno 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 ritarda e tieni per imposta destra 3 più più gira ripeto imposta destra 3 più più gira lunga lunga tieni fino a palo bianco e poi apre vai che apre sinistra 4 più più anticipa e rasa intieni filo al rosso sinistra 4 più più anticipa 50 dai cartelli destra veloce 50 e per sinistra 4 meno meno lunga non anticipare 50 vai destra 4 meno meno tieni con acceno sinistro in destra 4 meno meno tieni e taglia occhio che è umida questa è 50 ma che buona sinistra 5 meno meno anticipa in tieni filo sinistra veloce anticipa 50 e al rosso sinistra 5 più più lunga anticipa e rasa per destra 4 più più anticipa 30 vai vai destra 4 più più anticipa 30 sinistra 3 più più 30 e in posta destra 4 più più sul ponte ripeto in posta destra 4 più più sul ponte 70 vai tutto pieno adesso destra veloce ritarda indossetto tieni destra e in posta sinistra veloce anticipa 50 e chicane entra da sinistra chiudi subito vai sinistra 4 più più anticipa rail in posta destra 5 più più ritarda vai 50 6.33 se ha passato 4 secondi attra 5 secondi o Grazie.